Il comune di Napoli è vicino alle popolazioni colpite dal forte terremoto di questa notte nel centro Italia. Quali sono i primi interventi? Immediatamente abbiamo attivato tutta la rete della nostra protezione civile col sindaco, con il nostro responsabile di protezione civile all'interno di quello che è il circuito regionale. E subito abbiamo dato la nostra disponibilità, la solidarietà, questa zona colpita così gravemente. Abbiamo già nella prima fase, che è quella di immediato soccorso alle vittime, messo a disposizione ciò che ci si è chiesto, quindi 5 mezzi di una certa grandezza per i primi interventi. Dopodiché avremo già presso l'assessorato un primo punto di informazione in modo da sinergizzare e mettere insieme le effettive necessità. Va sottolineata la grande solidarietà dei cittadini, delle municipalità che ci stanno telefonando per mettere a disposizione ognuno quello che ritiene opportuno, onde evitare sovrapposizioni, quindi abbiamo anche deciso poi di fare un punto oggi pomeriggio, sentendo anche la protezione civile nazionale, la stessa ANCI, la prefettura, insomma ho allertato tutta la filiera in modo da mettere veramente in moto quello che serve e quello che c'è bisogno in questo momento difficile. La città di Napoli sta facendo la sua parte.